In questa splendida cornice del Golfo di Napoli e di Villa Bandini, qui a Napoli, al Lab delle Tecnologie, abbiamo in entrata il nebbiogeno di Aura Sicurezza. E abbiamo qui con noi Gianni Vitadello, direttore commerciale Aura Sicurezza. Perché i partecipanti al Lab sono rimasti così colpiti dal suo speech? Io credo che il nebbiogeno sia in grado di suscitare incredibili emozioni a chiunque, chi conosce il nebbiogeno e chi ancora non conosce il nebbiogeno. È uno strumento di straordinaria efficacia che colpisce chiunque lo possa vedere. Abbiamo presentato in anteprima assoluta, in questa splendida cornice, la novità assoluta nel mondo dei sistemi nebbiogeni. Che sarà il futuro della sicurezza attiva e che consentirà a qualsiasi sito di poter utilizzare questa innovativa tecnologia. Abbiamo presentato quindi un sistema rivoluzionario, piccolo, compatto, bellissimo. Siamo unici e resteremo gli unici. E in effetti quello che ha proprio colpito è stata la bellezza. Addirittura leopardati, addirittura che si confondono con gli stucchi di una villa, ultrapiatti e di dimensioni contenute. Molto bello davvero. Sì, diciamo che abbiamo affrontato realmente l'unico reale problema che è il fattore estetico. Superare il fattore estetico in Italia è sempre stato un problema perché siamo degli esteti, naturalmente esteti. Ci piace il bello, ci piace... e quindi è stato uno degli obiettivi che io mi sono posto. Facciamo una cosa bella per gli italiani. Benissimo. Altra cosa importante è il fatto che sia certificato IMQ e che sia anche adatto per gli alimenti. Ti ringrazio perché questa è l'assoluta novità. Io credo che il problema di saturare un ambiente con un prodotto sconosciuto può sempre creare qualche diffidenza, qualche ostacolo. Ebbene, noi abbiamo ottenuto le certificazioni che consentono a chi che sia, a qualsiasi tipo di ambiente, a qualsiasi tipo di utilizzo, di poter utilizzare il sistema nebbiogeno come fattore di sicurezza totale, anche in presenza di alimenti, in presenza di strumenti elettronici. E quindi daremo la possibilità a chiunque di poter utilizzare questa innovativa tecnologia. In effetti parlava proprio di sale server e non solo. Noi pensiamo spesso che il nebbiogeno sia per i piccoli ambienti, ma lei ci ha fatto vedere come riuscite a saturare in brevissimo tempo, 16 secondi, mi sembra, un impianto produttivo. Sì, noi abbiamo una gamma di 5 prodotti in realtà, che arrivano addirittura in 120 secondi, saturati di 500 metri quadrati, che è un'enormità in termini di saturazione. In effetti l'applicazione delle nuove tecnologie è in grado di arrivare a dare sicurezza anche a ambienti molto, molto, molto grandi, oltre che gli ambienti piccoli. Quest'anno anche grandi appuntamenti a sicurezza, dove Aura? Sicurezza sarà presente e appunto con i nuovi prodotti. Sì, in assoluto saremo probabilmente il centro di interesse di Fiera Sicurezza, abbiamo questa presunzione di essere la punta di diamante della novità. A Fiera Sicurezza saremo presenti con uno stand molto importante, molto interessante, dove sarà presentata la rivoluzione nel campo dei sistemi nebbiogeni. La possibilità di personalizzare il nebbiogeno a una farmacia, di poter scrivere sul nostro nebbiogeno il marchio, il dottore, quindi imitare la parete dove venga installato. Diciamo che la personalizzazione è oggi uno scopo fondamentale e per noi è un punto di eccellenza. Benissimo, quindi appuntamento a sicurezza e i prossimi hub delle tecnologie. Sicuramente sì, è stata per me un'esperienza molto valida, molto interessante, ti ringrazio.